ciao a tutti ragazzi e bentrovati con mister l sei troppo calmo per un video normale lo so ma sono giù ragazzi lasciate che vi spieghi allora mi è arrivata l'xbox one come l'ho già detto anche sul clan di crash royale qual è il problema quelli della microsoft sono dei figli di puttana mi rendono la vita impossibile il programma della registrazione non mi registra la voce neanche i crit che mi dà assistenza tecnica è riuscita a risolvere il problema quindi l'unico modo che ho per fare dei gameplay e fare dei fottuti commentari quindi ci metterò tipo tre giorni in più per adesso sì per adesso altrimenti potete scaricarmi ragazzi un altro programma per registrare da xbox online come cazzo si chiama quella merda lì qual è il problema è da un mese che a casa mia non c'è il wifi un mese senza wifi a casa mia sto per impazzire io rido però che non lo battere il turi di mano a battere quindi se anche potessi fare gameplay non li potrei caricare ha già cominciato vado io di supporto perché io la miseria ora sto faccio spunti devo spunti devo sfogarmi proprio gli sponano con il mio fucile e superi il culo a questi bastardi devo devo sfogarmi devo rendere la vita impossibile agli altri qualcuno deve subire sono come i bulli tratto male le altre persone perché ho avuto qualcosa di pregato nel mio avuto suuuu suuu per il bravo che che cavolo ma chi è che spara adesso vado su e spammano granati eh vabbè sì stavolta me la sono meritata ok è il turno di mister L guarda guarda proprio il povero quella testa lì ha detto ce n'è uno solo quindi io lo uccido e aspetto il misigenerita mi dispiace no si aprite il culo perchè adesso ci ponite gli rovini i piani devo provare l'ombra di mordor e i crypt io volevo portare gameplay vieni qua vieni qua ti ho visto puttana volevo portare gameplay dove ammattavo capitani su capitani comandanti su comandanti non mi parte la granata ma posso farlo eh sono diventato un brustolino cavolo scopo ma vaffanculo vai ah mmm bello laga laga bello bello lagare no laga troppo no sta slittando come stai slittando stavo slittando all'indietro nooo qualcuno chi è che cosa vuoi fai tu no arriva lui il wifi via va via il wifi sei uno sporta wifi guarda mi sta slittando a sinistra io non stavo andando a sinistra non andavo saccheggiare il fucile di un tipo che muore sembra se lo amati eppure di un mio compagno è morto che lo sa ammattalo si quello l'aria cogli hai preso quello a posto a posto ci ho rubato il primo che c'è mi straio ho meno l'incu mi sembra possiamo dici tanto cielo ci bombarda il problema è chi ci bombarda questa trafanteria non avete un valore ma porto il cazzo fregami tutto no tu sei con noi quello non è con te perché è scappato nazista selvatico fugge peccato è stato veloce quello lì anzi no no nazista ho sbagliato kaiser selvatico fugge aprite le porte fate aria e vedete che autogastica è bello se magari è con te gas se non è bello se magari negli ambienti chiusi tutto quanto diventare di salva lena tutto quindi devi aprire le porte per far passare più aria vabbè cos'è apri in aria simulator eh sono morto comunque è però è morto però è morto chi l'ha ucciso? io? come? ho tirato la granata non l'hai vista ah da quanto dai che stiamo registrando 10 minuti? mi sembra di sì così tanto eh no no io non ho capito nessuno in 10 minuti porto il cazzo eh sì la mistrella deve fare una roba problemi no aspetta 10 minuti poi 5 minuti di caricamento solo quindi ah sì ok ok 5 minuti di scuse di mistrella c'è il gas gas cattivo no ma qualcuno ha mangiato con la presa hai già iniziato da un minuto e qualcosa è la granata in pa ah è vero che le granate in pa sono come petardi un po' non cazzo no se si prendermi in faccia per la stacca e beh se prendermi in faccia è ovvio cazzo ma una volta su nemmeno mai prendono in faccia siamo con i turchi ragazzi quindi che ho visto uuu ora la droga mazzi ne sono sicuro dice nemico colpito 17 vostra madre cattiva vabbè guarda che sei tanto più bravo il cattivo rubami la kill puttana per la rubata si ah ah no fottiti no io non risparmio che c'è la kill sei ucciso? no ah non vi ho detto uccidere no magari ma ih se ci potessimo uccidere sapete che casino terminato il gioco ci sarebbero più auto kill che kill guarda davanti a te sei fortunato che ero un milino che mi fa un pochino più preso no no che andavo dig zag quindi non mi prendeva uno due tre qua sulla torretta che qualcuno camper o ci scommetto nulla che qualcuno camper l'affortuna che non ho scommesso nulla trovato cazzo la vita mi serve no 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 mi sanno che sono qua sanno che sono qua cazzo cazzo fuc è sicuro lì è sicuro puoi andare a fare una sversatina bravo vai su fallout mando i miei compagni guarda che l'hanno preso l'hanno preso? si l'hanno preso l'hanno preso l'hanno preso l'hanno preso sul serio è la stessa tattica che uso io su fallout ma qua i camper fanno veramente un festino di quelli ma no no eh no è colassato colassato col cavolo ma quanto cazzo c'è di culo? ah sentinello uccide c'è un altro qua a destra c'ho qua il basso a terra non dire nulla non dire nulla è lì lì guarda no lo sei esposto espositi un po' di più bravo ho tirato giù uno ok qui c'è uno abbastanza sicuramente dentro e tu cosa ho detto? eccolo qua quello che... ma dov'era? lì è sicuro qui? guarda si è la fiera dei camper sei stato un genio questa non conta come morte fessioni da me quando facevo rugby ci arriva cinque ragazzi uno due tre quattro 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 uno due tre tre è stancato l'omino vabbè uccidetemi stiamo facendo una mappa non ho mai vista io questa che figata perché c'è la nebbia ecco perché ma che figa ma è quella della foresta? non lo so aspetta oh mio dio il cecchino qua era i culi per te li vedi perché sta ferma ma gli altri non vedono lui comunque siamo su dominio non più su etmash perché... devo morire subito che ora posso fare delle robe belle con il cecchino oh me lo son meritato ho avuto fortuna mi son distratto un attimo è stato l'Arcangio Gabriele mi son distratto un attimo cosa è successo? l'ho colpito il test ho fatto un headshot che santo dio non te lo fanno non te lo fanno questo qua li hai fatto è montata a terra bestia ma ci sono anche le granate? è vero ma... io dipendo dalle granate in questo momento vaffanculo ma io sono a terra com'è che mi colpiscono comunque? ah no era lì però non ti vedo mi vedo da dietro ma in effetti non è una cattiva idea io faccio il giro perché la vita mi fa schifo ah! così facile era non è mai deserto così se c'è una mitaglietta pronta lì però la fendere vabbè vabbè ma... porca sei un maledetto ma posso uscire dal tavolo? fottetevi poi è il vostro gas è la seconda guerra mondiale ecco perché era così è rimasto traumatizzato l'astigas quindi chi resta qui difeneri o no? nemico cavolo ecco non uccidi gli zoppi esatto uccidi gli zoppi e stella di servizio bene e mi ha fatto un quickscope ancora prima se non aveva molto senso dare così in giro e ho ordinato l'attacco completato di nuovo io sto facendo punti take my punti devo pensare si ma no 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 io vedo il primo non sono buono a giocare sto facendo cagare il cazzo guarda era per me c'era il mio nome su quella cazzo di bomba su quella... su quella casa quanta gente c'è lì? quanta gente c'è lì? quanta gente c'è lì? quello lì si è preso? no santo a terra eh c'è uno lì c'è uno non è non è non è OP no è OP porco il cazzo se è OP il fucile a pompa infatti non so è morto perché l'ho guardato praticamente sa te come si vince ecco come si vince piano piano ce ne su ti ho visto l'ho colpito e ricarica sai non so no perché ho visto uno prima con il simboletto del medico però vado a prenderlo eccolo ho detto lui tiro un po' le miniature di hitler io mi sento tipo di super saiyan tu sei un bastardo se colpisci alle spalle eh qua colpiscono tutti alle spalle quindi cosa devono è nappa e vegeta disapprovano vedi dislike al video nappa e vegeta due dislike ahah si dai pensa magari ti ho visto nooo Dio ti ho preso ormai Dio ti ho preso ormai Dio ti ho preso ormai ho preso le spalle come di no non sei com'è è scappato ed è morto col cavolo che ha shot i miei amici eh vado a prenderlo stiamo perdendo l'obiettivo bravo com'è andato penso sia morto vuoi averci quitcato ho preso paura cosa dice il nazista ti rompo le miniature di hitler sta fermo eh che cavolo l'ho ucciso però l'ho ucciso e abbiamo morti e abbiamo morti e che cosa è latino abbiamo morti nulla cazzo di niente però il battle pack ce lo meritiamo dai si hai fatto delle bellissime azioni un cazzo ahah tabella punti quinto non male 9 e 13 perchè abbiamo anche sai tu che fai saresti anche terzo o quarto se non ci fosse stato io ok ragazzi quindi io tra poco comincerò a far video quando arriverà il wifi quando risolveremo il problema sulle mixbox e robe varie stiamo tutti comandati sia me che i crisi stiamo facendo di tutto per salvare il problema no io sto facendo di tutto io sto me ne sto fregando tutta quasi quindi il gameplay finisce qua speriamo vi sia piaciuto e ci si vede al prossimo ciao a tutti